TG.com L'uomo è sepolto da 11 anni in Spagna, dove aveva cambiato nome e militato nella legione straniera. Ciampi torna a chiedere coesione tra le varie parti sociali per far ripartire l'economia italiana. Intanto Fazio ha annunciato che l'industria è in ripresa. Nel primo anticipo di Serie A, 2-2 tra Sampdoria e Inter. Blu Cerchiati in vantaggio con una doppietta di Diana e Nerazzurri che rimediano prima con Cambiasso, poi con Cordoba. E questa era l'ultima notizia e vi ricordo che tutte le edizioni di TG Web sono sul nostro sito. Io vi lascio alla seconda parte del film e a buon proseguimento. Illumina le tue notti con gli attacca-stacca di Madagascar. Te li regala Frollis. Italia! Uno! La precisione. L'ordine. Una formica è disposta a vivere per la colonia. A morire per la colonia. Questo qui è svitato. E se una formica si ribella, ci sarà un perché. Piano terra! Z alla formica. Sabato alle 21 su Italia 1. Dal produttore di Shrek e Shrek 2. Piccione Valiant, mi presento al rapporto, signore! Quando la missione è impossibile... Augurami buona fortuna! C'è solo un piccione da chiamare. Valiant! Lunga scie! Dal 28 ottobre al cinema. Dal mondo di Barbie e la magia di Pegaso... Barbie ha un cavallo alato per volare nel cielo blu. Ti porterà nel suo regno faltato e sognerai anche tu. E la magia di Pegaso... Barbie ti incanterà... E l'abito cambierà... E la magia di Pegaso... Barbie è la magia di Pegaso. Vola anche tu nel suo regno incantato. Dal profondo spazio, lampi di luce e meteore di fuoco. Sono loro, arrivano. Sono le nuove carte Pokémon di Deoxys in italiano. Scambia il gioco con Deoxys in italiano. E solo in Enicola. Benvenuti al Kaka Quiz! Domanda! Che cos'è questo oggetto? Una cannuccia? Ci direi un cereale! Indovinate! Sono le nuove cannucce Coco Pops! Per bere latte sono geniali le cannucce cereali! Con uno strato al gusto a cioccolato! Prima vedete, poi morditi! E così ve la godrete! Le cannucce! Le voglio a te! Cannucce Coco Pops! Fatti risucchiare dalla bontà! E voi? Che animali avete a casa? Un pesciolino rosso! E tu? Un grigietto! E tu? Io ho un orso bruno, un elefante africano, una tigre del Bengala, un coccodrino, una scemmia... È arrivato il magico mondo degli animali! Pumba, Minou, Dumbo, Fiorellino e tanti morbidi personaggi Disney! Più un fascicolo per sapere tutto sugli animali! Notizie, curiosità e giochi... Scopri il mondo degli orsi con Baloo! Prima uscita a soli 3,90 euro! De Agostini! E poi a un pacocere, una puzzola... Barbie Fashion Fever per te! Un diario per Barbie, un diario per te! Una borsa per Barbie, una borsa per te! Oh, 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 oh! We'll get back! Nuova Barbie Fashion Fever per te! E sei alla moda anche tu! I coccolabau! Si muovono davvero! I coccolabau! Adottali! I coccolabau! Abbracciali! Li adotterei tutti! Teneri cuccioli! I coccolabau! Adotta anche tu un tenero cucciolo! Barbie spicca il volo nel suo nuovo film Barbie e la magia di Pegaso! Barbie nel ruolo della principessa Annika e il cavallo alato Brietta volano insieme verso l'avventura! Il DVD contiene spettacolari scene in 3D! Barbie e la magia di Pegaso! In videocassetta e DVD! Baby Belle! Eh no, papà! Non lo sai che si offre anche agli amici? Baby Belle, il mini formaggio! Tondo fuori, buono dentro! Colleziona i quattro magneti gonfiabili di Star Wars! Ne trovi uno in ogni retina di Baby Belle! Le rock star di Music Fever! Barbie, Tori e Simone pronte per cantare! E col microfono puoi cantare anche tu! In my head, I'm lining in a bottle! Che forza! Barbie Music Fever! Diventa anche tu una rock star! È lo studio di registrazione di Barbie Music Fever! Indossa le cuffie e registra le tue canzoni! Musica! Si registra! Sarò una rock star! Riascoltiamoci! Sarò una rock star! Sarò un successo! Studio di registrazione Barbie Music Fever! E voi? Che animali avete a casa? Io ho un orso bruno, un elefante africano... È arrivato il magico mondo degli animali! Fantastici personaggi Disney da collezionare e un fascicolo con notizie giochi... Questiamo! Prima uscita value il mondo degli orsi a 3,90€ di Agostini Dalle strade di Gotham City arriva la nuova Batmobile Ascolta il rombo del motore Alta tecnologia, corazzata Il potere di 6 megaruote e l'incredibile forza di due lanciamissili Questa è l'arma finale L'auto preferita da Batman per proteggere le strade Il crimine non a scampo con Batman Nuova Batmobile Deluxe con luci elettroniche Negli Happy Meal sono arrivati i supereroi DC Comics E gli accessori di Hello Kitty Collezionali tutti! Per gli amanti dei Simpson Italia 1 si fa in due e gioca d'anticipo Lunedì alle 14 potranno vedere un nuovissimo episodio in prima visione Italia 1 Seguito da uno degli episodi entrati a far parte della storia I Simpson Dal lunedì al venerdì alle 14 su Italia 1 Buonasera, il tempo previsto per domani Al mattino nubi sul settore ionico per venti freschi Bel tempo sul resto della penisola Estesi banchi di nebbia in Valpadana Valli e litorali del centro Nord Sardegna e Campania Persistenti in Valpadana fino alla tarda mattinata O primo pomeriggio Al pomeriggio bel tempo ovunque Salvo moderata nuvolosità sulle regioni ioniche ed è Sicilia Nebbia in dissolvimento in Valpadana Qualche banco persiste al largo delle coste del medio adriatico Temperatura massima da 3 a 5 gradi Al di sopra delle medie su quasi tutte le regioni Previsioni e grafica Epson